Buongiorno, nella precedente lezione abbiamo narrato, per sommi capi, la biografia del Buddha storico. Oggi partiremo dall'esposizione sintetica del discorso tenuto in punto di morte da Siddhartha, che rappresenta una sorta di testamento spirituale del Buddha. L'ultimo discorso del Buddha. Sotto gli alberi di sala a Kusi Nagara, appressandosi la fine, Buddha rivolse queste ultime parole ai suoi discepoli. Il vostro corpo. Abbiate sempre presente la sua impurità. Ben sapendo che tanto il dolore quanto il piacere sono parimenti causa di sofferenza, come potete essere indulgenti verso i suoi desideri? Considerate bene il vostro io. Riflettete sulla sua transitorietà. Come potete essere delusi da ciò che è sempre muta, coltivare orgoglio ed egoismo, sapendo che tutto ciò conduce inevitabilmente alla sofferenza? Considerate bene tutti gli esseri, che reputiamo sostanziali. È forse possibile trovare in mezzo a loro un qualche sé permanente? Cosa sono, se non aggregati, che presto o tardi si sbricioleranno in tante parti e si perderanno nel nulla? Non lasciatevi confondere dall'universalità della sofferenza, ma seguite il mio insegnamento, anche dopo la mia morte, e sarete liberi dalla sofferenza. Fate questo e sarete davvero miei discepoli. Mie discepoli, gli insegnamenti che vi ho donato non dovranno mai cadere nell'oblio, né essere abbandonati. Sono da conservare come un tesoro, da meditare e da mettere in pratica. Se seguirete questa via, sarete sempre felici. Il cuore della dottrina consiste nel controllo della vostra mente. Se riuscirete a dominare i pensieri e a gettare via l'egoismo, manterrete una condotta di vita giusta. La mente pura è il parlare degno di fede. Se terrete sempre a mente la transitorietà della vita, sarete in grado di far fronte all'egoismo e alla paura, ed eviterete tutti i mali e le sofferenze che da essi derivano. Se scoprite la vostra mente in preda al dubbio delle passioni e sprofondata nella brama dell'egoismo, dovete sopprimere la tentazione e riprendere il controllo di voi stessi. Ciascuno di voi sia il signore e il dominatore della propria mente. La mente può renderci un Buddha, oppure trasformarci in bestie. Se ci si lascia sedurre dall'errore, dalla brama di esistere e di possedere, si diventa simili a demoni. Al culmine dell'illuminazione si diventa Buddha. Su via, tenete sotto controllo la mente e non lasciate che abbandoni il retto sentiero. Abbiate rispetto l'uno dell'altro, seguite i miei insegnamenti e mettete da parte eventuali dispute. Non respingetevi e non separatevi, come fanno acqua e olio, ma siate un tutt'uno, come latte e acqua. Applicatevi insieme allo studio, imparate l'uno dall'altro, praticate i miei insegnamenti riuniti in comunità. Non sprecate tempo ed energie nella vana accidia e nella polemica a fine a se stessa. A tempo debito godetevi i fiori dell'illuminazione e, quando sarà maturo, il frutto del retto sentiero. Gli insegnamenti che vi lascio in eredità li ho ottenuti sperimentandoli io stesso in prima persona. Seguite questi insegnamenti e conformatevi al loro spirito in ogni occasione. Se li lascerete negletti, significa che non mi avete mai realmente incontrato. Significa che siete lontani da me, nonostante ora vi troviate presso di me. Ma se accettate e mettete in pratica quanto vi ho insegnato, allora mi sarete sempre vicini, non importa quanto siate lontani nello spazio e nel tempo. Mie discepoli, la fine si va approssimando, la nostra separazione è vicina, ma non lamentatevi. La vita è un continuo cambiamento, nessuno può sfuggire alla dissoluzione del corpo. È questo ciò che dimostrerò con la mia morte, col corpo che cadrà a pezzi come un carro in rovina. Non lamentatevi vanamente, ma pensate che nulla è permanente e apprendete da ciò la vanità del vivere umano. Non attaccatevi all'inopportuno desiderio che quanto è per sua essenza mutabile possa diventare immutabile. Il demone di questi desideri mondani è sempre la ricerca di opportunità per offuscare la mente. Se una vipera vive nascosta nella vostra stanza e voi desiderate dormire in pace, dovete prima scacciarla fuori dall'uscio. Occorre che rompiate le catene delle passioni mondane e le gettiate via, come fareste con una vipera. Proteggete la vostra mente con attenzione. Mie discepoli, è giunto il mio ultimo momento, ma non dimenticate che la morte è soltanto la fine del corpo fisico. Il corpo è nato dai genitori ed è stato nutrito col cibo. Pertanto, malattie e morte sono inevitabili. Ma il vero Buddha non è un corpo umano, è illuminazione. Un corpo umano deve morire, ma la saggezza dell'illuminazione esisterà per sempre nella verità del Dharma e nella pratica del Dharma. Chi vede soltanto il mio corpo in disfacimento non vede veramente me. Soltanto chi accetta il mio insegnamento si incontra realmente con me. Quando sarò morto, il Dharma sarà il vostro maestro. Seguite il Dharma e, in ogni istante, sarete presso di me. Durante gli ultimi 45 anni della mia vita non ho omesso nulla dei miei insegnamenti. Non c'è nessuna dottrina segreta, nessun significato nascosto. Ogni cosa vi è stata dichiarata e trasmessa apertamente e con chiarezza. Miei cari discepoli, ecco la fine. Fra un momento trapasserò nel nirvana. Questa è la mia ultima istruzione. Veniamo ora al contenuto del Dharma, termine sanscrito dai molteplici significati, con il quale si indica in generale la dottrina del Buddha. Altri significati del vocabolo Dharma sono i seguenti. Dovere, legge, ovvero osservanza religiosa. Risalgono anche alla tradizione induista. Ora parliamo del Dharma del Buddha, quindi del Buddha Dharma, cioè della dottrina del Dharma. Al primo punto la celebre quadruplice nobile verità, Katvari, Aria, Satiani. Il mondo è pieno di sofferenza. La nascita è sofferenza. La vecchiaia è sofferenza. Malattia e morte sono sofferenza. Incontrare un uomo che si odia è sofferenza. Essere separati da chi si ama è sofferenza. Combattere vanamente per soddisfare i propri desideri è sofferenza. Tant'è, una vita non libera dal desiderio e dalla passione è sempre mescolata con l'angoscia. Questa è chiamata la verità della sofferenza. Dukkha Satya. La causa della sofferenza umana si trova indubbiamente nelle bramosie del corpo fisico e nelle illusioni generate dalle passioni mondane. Se queste brame e illusioni sono ricondotte alla loro fonte, si scopre che esse traggono la loro ragion d'essere, in ultima istanza, dagli intensi desideri legati agli istinti fisici e all'attaccamento illusorio della mente. Così il desiderio, l'attaccamento, fondatosi su una ben robusta base di volontà di vivere, va in cerca di quanto egli avverte desiderabile, persino quando ciò coincide con la morte. Questa è chiamata la verità della causa della sofferenza. Samudaya Satya. Se il desiderio, che giace alla radice di tutte le passioni umane, viene rimosso, allora la passione sarà annichilita e con essa avranno fine tutte le umane sofferenze. Questa è chiamata la verità della cessazione della sofferenza. Niroda Satya. Per raggiungere uno stato scevro di desiderio e di attaccamento, occorre seguire un determinato sentiero. Le tappe di questo nobile o tuplice sentiero sono retta visione, retto pensiero, retto discorso, retto intendimento, retto stile di vita, retto sforzo cosciente, retta consapevolezza e retta concentrazione. Questa è chiamata la verità del nobile sentiero che porta alla cessazione della causa della sofferenza. Marga Satya. Come vedete, lo schema delle quattro nobili verità del Buddha è articolato in termini che potremmo definire clinici, medici, medico-impirici. La prima nobile verità, quella che è constata l'esistenza della sofferenza, può essere paragonata al momento dell'anamnesi. La seconda nobile verità, quella che individua la causa della sofferenza, ovvero l'attaccamento e il desiderio, Trna, in sanscrito, può essere paragonata alla diagnosi, cioè al momento in cui, appunto, si evidenzia, si scopre la causa del male, la causa della sofferenza. La terza nobile verità, ovvero quella che annunzia la possibilità della fine della sofferenza, recidendo, appunto, questo attaccamento ai desideri, può essere paragonata al momento della prognosi, una prognosi, in questo caso, fausta, ovvero esiste la possibilità di far cessare la sofferenza. È l'elemento, per così dire, della buona novella, tra virgolette, dell'annunzio del Buddha. La quarta nobile verità è il momento più propriamente terapeutico, cioè la prescrizione dei farmaci, per così dire, che il Buddha, in qualità di medico dell'anima, prescrive ai suoi discepoli, ovvero quel nobile o tuplice sentiero, ovvero quelle otto fasi, quelle otto modalità, quegli otto punti da tenere sotto controllo e da sviluppare nel corso dell'esistenza. Quindi una terapia decisamente articolata e complessa. Andiamo avanti. La gente dovrebbe tenere bene a mente queste verità, perché il mondo è pieno di sofferenza, e se si vuole sfuggire alla sua morsa, occorre sciogliere uno ad uno i nodi della passione, dell'attaccamento, che ci incatenano al mondo. Sono l'unica vera causa di ogni angoscia e tribolazione. Lo stile di vita di colui che si è lasciato dietro ogni legame con la brama e l'angoscia di esistere nel mondo può essere afferrato e conosciuto attraverso l'illuminazione. E l'illuminazione può essere ottenuta solo da chi si sottopone con pieno convincimento ed energia alla disciplina del nobile o tuplice sentiero, cioè chi segue in maniera accurata la terapia. Per inciso, Buddha in sanscrito significa il risvegliato, il risveglio, bu, questo è il significato di questa radice. Possiamo anche utilizzare il termine, come in questo caso, di illuminazione. Tutti coloro i quali sono alla ricerca dell'illuminazione debbono comprendere appieno la quadruplice nobile verità. Senza tale comprensione essi andranno vagando qua e là in un circolo senza fine di domande e risposte invischiati nell'intricata matassa delle illusioni di cui è intessuta la vita. Di quanti sono riusciti a far propria questa quadruplice nobile verità si dice che essi hanno acquistato gli occhi dell'illuminazione, la visione dell'illuminazione, la consapevolezza dell'illuminazione. Pertanto, chi vuol seguire gli insegnamenti del Buddha dovrebbe concentrare la sua mente su questa quadruplice nobile verità e sforzarsi, passo dopo passo, di rendere sempre più chiaro il suo profondo significato. In tutti i tempi un santo, se è un vero santo, è colui che ha compreso questo e lo insegna agli altri. Usiamo la parola santo, possiamo usare anche la parola risvegliato, sapiente. Quando qualcuno comprende in profondità la quadruplice nobile verità, allora il nobile o tuplice sentiero lo guiderà lontano da ogni forma di attaccamento. E se è libero dall'attaccamento non avrà conti da saldare con il mondo, non ucciderà, né ruberà, né commetterà adulterio, né frode, né abuso, né prevaricazione, non proverà invidia, non smarrirà la propria moderazione, né dimenticherà la transitorietà della vita, ovvero sarà un uomo, una donna, giusta. Come potete notare, questo tipo di etica non è un'etica di tipo prescrittivo, ovvero il Buddha, che non è una figura divina, vada sì, stiamo parlando del Buddha storico, prescrive da buon medico dell'anima una terapia, dopo aver individuato i termini diagnostici della sofferenza, come vi ho detto poc'anzi. La dieta di vita, l'etica, l'ethos, il costume, le abitudini da sviluppare nel corso dell'esistenza per diminuire il carico di sofferenza o per estinguerlo del tutto, perché è possibile estinguerlo del tutto, è una meta, evidentemente, verso la quale tendere, hanno le caratteristiche di un'etica non prescrittiva dall'alto, ma, come dire, di tipo pragmatico, finalizzata appunto all'estinzione della sofferenza. Quindi io non ti dico che devi essere giusto a priori, perché altrimenti, come un Dio trascendente, lontano, più o meno severo, ti punisco, o ti premio in un secondo momento se fai o non fai una determinata cosa. Io, Buddha storico, ti do delle indicazioni di tipo terapeutico, ti spiego il modo in cui puoi ottenere la liberazione dalla sofferenza e, seguendo queste norme, inevitabilmente tu sarai un uomo, una donna, giusto o giusta. cioè eviterai tutti quei costumi, tutte quelle modalità di comportamento che recano con sé sofferenza, procurano sofferenza a se stessi e agli altri, evidentemente, inquinando la mente inquinano il corpo e viceversa e inquinano il mondo circostante. Si tratta di rendersi puri, per così dire. E guardate, si tratta di un'etica, dico alla portata di tutti, ma sì, il messaggio del Buddha è un messaggio di tipo universale, ecumenico, ed è un'etica basata, similmente, alla visione dei Greci, a quella di Aristotele, per esempio, sul giusto mezzo, la via mediana, quindi l'equilibrio. Ogni passo va mosso in maniera equilibrata. Seguire il nobile sentiero è come entrare in una stanza buia, con un lume in mano. Le tenebre saranno rischiarate e la stanza, man mano che si procede, si riempirà di luce. Chi capisce il significato delle nobili verità e ha imparato a seguire il nobile sentiero, ha con sé, in ogni istante, la luce della saggezza, che va diradando le tenebre dell'ignoranza. Quindi si tratta di un cammino salvifico, terapeutico, che è anche un cammino di tipo sapienziale. L'ignoranza è l'illusione, è il non intendere il vero significato e la vera causa della sofferenza. Saggezza, sapienza, significa saper vivere, quindi qui non parliamo di una conoscenza astratta, intellettuale, parliamo di un saper vivere, di un saper essere con sé stessi e con la realtà, rimuovendo appunto la causa della sofferenza. In questo senso si tratta appunto di un cammino di tipo sapienziale. Anche questo aspetto è simile, per molti versi, a quello delle scuole ellenistiche greche dell'epoca dell'ellenismo, lo stoicismo, l'epicureismo, eccetera. Buddha, Buddha storico, rappresenta una guida per gli uomini, un maestro, solo per il fatto di avere indicato loro la quadruplice nobile verità e l'ottuplice sentiero. Quanti riescono a comprenderla appieno ottengono l'illuminazione? Saranno loro, uomini carne ed ossa, a guidare e ad aiutare gli altri a far piazza pulita delle illusioni mondane, degli attaccamenti e a divenire degni di fiducia. Quando la quadruplice nobile verità diviene manifesta, tutte le sorgenti delle umane passioni inevitabilmente si seccano. Grazie a questa quadruplice nobile verità, ai discepoli del Buddha si schiuderanno tutte le altre preziose verità che da essa discendono. Lungo il cammino otterranno la saggezza e il discernimento per comprenderne a fondo il significato e saranno capaci di predicare il cuore del Dharma a tutti gli uomini della Terra. Quindi c'è un cammino di tipo individuale, per così dire, all'interno però di una comunità e questa comunità è una comunità in un certo senso aperta al mondo intero quindi di tipo ecumenico evangelizzante uso questi termini tratti della tradizione cristiana per capirci meglio evidentemente. Quindi alla domanda il buddismo è una forma di religione e la risposta è sì e no nello stesso tempo i termini non sono esattamente aderenti. se per religione intendiamo un rapporto un determinato rapporto con un'idea di Dio che è quella del Dio trascendente del Dio persona tipico delle religioni del libro quelle della Bibbia le cosiddette religioni rivelate ebraismo cristianesimo e Islam evidentemente il buddismo non è una religione ecco se la intendiamo in questi termini è molto più vicina ripeto ad una una filosofia che però ecco intendiamoci bene qui per filosofia non intendiamo un percorso di tipo intellettuale accademico come l'abbiamo in mente noi occidentali genericamente parlando ma di un cammino di vita di un cammino terapeutico pragmatico il punto fondamentale è guarire dalla sofferenza vivere nel modo più più pulito più sereno più a contatto con la realtà più degno che sia possibile questo è il punto fondamentale quindi in questo senso assomiglia ad una pragmatica di vita ad un'etica di vita etica di vita pragmatica di vita tipica ripeto delle scuole ellenistiche greche che evidentemente ha elementi spirituali significativissimi quindi la pratica del monaco buddista per esempio è molto simile per alcuni versi a quella di un monaco cristiano piuttosto che di un sufi islamico eccetera eccetera veniamo ora ad una dottrina centrale nel pensiero buddista ovvero quella della causalità o dottrina della coproduzione condizionata in sascrito pratityasa mutpada ci sono cause per tutte le sofferenze umane e c'è un modo per farle cessare poiché ogni fenomeno nel mondo è il risultato di una vastissima occorrenza di cause e condizioni e ciascuno di essi scompare e diviene nulla non appena queste cause e condizioni cambiano e passano via la pioggia cade il vento soffia le piante fioriscono i frutti maturano e un soffio li fa cadere a terra questi fenomeni sono tutti correlati con cause e condizioni si manifestano grazie al loro apporto e cessano di esistere nel momento in cui queste cause e condizioni mutano la nascita di ciascuno di noi è condizionata dalla parentela e dalla discendenza il nostro corpo è nutrito dal cibo la nostra mente si forma attraverso l'insegnamento e l'esperienza quindi sia la carne che la mente dipendono da determinate condizioni e si trasformano quando queste condizioni cambiano come una rete è costituita da una serie di nodi intrecciati tra di loro così ogni cosa in questo mondo è connessa ad ogni altra cosa da una serie di nodi è un errore pensare che vi sia qualcosa di separato isolato da tutto il resto tutti i fenomeni sono intrecciati in un'unica trama il mondo è una rete poiché è composto da una serie di nodi interconnessi e ogni singolo nodo ogni singola creatura ha il suo posto la sua funzione e le sue responsabilità in relazione a tutti gli altri nodi dunque cosa significa questa dottrina significa che l'essenza delle cose che esistono taonta avrebbero detto tutti i greci è relazione è relazionale ovvero per usare una metafora abbastanza esplicativa ecco dovete immaginarvi la realtà non composta di punti di sé cioè di punti sostanziali di singole cose esistenti separate tra di loro che vengono unite da trattini come nella settimana enigmistica se avete presente quel gioco in cui ci sono serie di puntini da unire dovete piuttosto immaginarvi delle linee che intrecciandosi tra di loro formano dei punti cioè il punto sostanziale di una sostanzialità trascorrente quindi inesistente di fatto dipende dall'incontro provvisorio transeunte di linee e le linee indicano appunto la relazione ovvero ogni cosa che esiste deriva dall'incontro di varie cause di vari fenomeni che nello stesso momento quindi immaginate la realtà come un qualcosa di estremamente complesso ecco a livello di fisica quantistica anzi la fisica quantistica in certa misura ha confermato la visione buddista pensate di 2600 anni fa perché il Buddha è vissuto tra il VI e il V secolo avanti Cristo ecco ovvero ogni particella ogni quanto è in relazione simbiotica è interrelato a tutto ciò che esiste e il suo modo di esistere è un modo di esistere assolutamente provvisoio transeunte a predominare è la relazionalità quindi ogni cosa è relazione i germogli spuntano giacché si realizzano una serie di condizioni favorevoli al loro germogliare e così una mano invisibile fa sì che i frutti si stacchino dai rami i germogli non appaiono autonomamente né una foglia né un frutto cadono a terra da sé se non è il momento giusto così tutte le cose appaiono si manifestano si fanno innanzi e passano via nessun fenomeno è immune dal cambiamento è la legge sempre eterna e immutabile di questo mondo ovvero che tutto si crei attraverso una serie di cause e condizioni e tutto allo stesso modo scompaia tutto passa niente è durevole i due principi ci torneremo sopra sono anatta anatman atman è il principio di sostanzialità in saschito significa il se per così dire quindi il principio di sostanzialità a che ha la stessa valenza della alfa privativa in greco la n è semplicemente eufonica quindi anatman anatta in pali significa non se ovvero le cose che esistono hanno questa struttura relazionale sono relazione non ci sono nuclei di sé esistenti preesistenti che vengono collegati tra di loro l'altro principio è aniccia che in pali significa impermanenza cioè tutte le cose che esistono sono appunto impermanenti passano scompaiono scompaiono una visione questa che può rimandare per esempio a quella eraclitea oppure a quella taoista insomma è una visione enorme per così dire che ritroviamo un po' in altre culture cominciare dalla stessa filosofia occidentale veniamo a un altro principio fondamentale di cui senz'altro avrete sentito parlare generazione causata karma famoso karma kar in sanscrito è una radice che indica l'azione il compimento di un'azione il fare qualche cosa il produrre qualche cosa qual è la sorgente della disgrazia dell'afflizione del dolore e dell'angoscia che tormentano gli uomini non può che essere individuata nel semplice fatto che la gente di norma è dominata dal desiderio e dall'attaccamento il desiderio ci può stare noi siamo desiderio il punto è vivere in una maniera giusta tale desiderio cioè non trasformarlo in attaccamento quindi il desiderio di tipo per così dire psicofisico non deve diventare un attaccamento di tipo mentale non deve eccedere rispetto a quelle che sono le condizioni di realtà per il soddisfacimento dello stesso desiderio mangiare e bere per esempio e non deve appunto trasformare l'oggetto del desiderio in qualcosa di sostanziale cioè tener conto sempre i due principi che dicevamo prima cioè anatta non se non sostanzialità e ani cia transitorietà tutte le cose passano non solo i desideri ma anche gli oggetti del desiderio quindi la sofferenza il carico di sofferenza in più che ci portiamo appresso e sul quale possiamo lavorare seguendo appunto il percorso terapeutico che ci indica Siddhartha il Buddha maestro antichissimo vissuto 2600 anni fa esattamente questo cioè come ridurre il carico di sofferenza aggiunta aggiuntiva che dobbiamo a noi stessi di cui noi stessi siamo responsabili e che dipendono appunto dai fattori mentali ovvero dall'ignoranza di come funziona realmente il mondo anche qui c'è una similitudine decisamente spiccata con la tradizione ellenista delle filosofie elleniste ovvero la conoscenza del mondo della physis cioè la fisica e propedeutica all'etica cioè capire come funziona il mondo come è strutturato il mondo quali sono i principi di base del funzionamento della realtà significa vivere nella maniera più adeguata quindi il più realistica possibile per adeguarsi a tali principi e quindi diminuire il carico di sofferenza che deriva dall'ignoranza cioè in greco kataphysin secondo la physis secondo la naturalità degli eventi e non para physin cioè contro la realtà se io mi metto contro lo scorrere naturale del reale contro l'evidenza fenomenica contro il fatto che per esempio dovrò ammalarmi e dovrò morire evidentemente aggiungerò un carico di sofferenza più o meno inaudita che mi posso in qualche maniera risparmiare non che la morte e la malattia siano di per sé assenti vuote di sofferenza un certo carico di sofferenza evidentemente fa parte della vita e va accettato per quello che è e dunque gli uomini si ostinano a perseguire esistenze all'insegna della ricchezza e del prestigio sociale della comodità e del piacere dell'eccitazione e dell'autocompiacimento ignorando che è proprio il tenace desiderio e l'attaccamento per queste cose a generare la loro sofferenza sin dalle sue origini il mondo degli uomini si è riempito di innumerevoli calamità ben al di sopra del semplice e inevitabile fatto di dover cadere malati patire la vecchiaia morire come dicevo prima ma se si considerano con attenzione tutti questi fatti ci si deve convincere che alla base di tutte le sofferenze giace il principio del desiderio smodato cioè parafusin contro natura smodato significa questo termine che possiamo tranquillamente trovare anche nelle filosofie ellenistiche il concetto è questo per chi conosce la dottrina di Epicuro se vi ricordate Epicuro parla di tre diversi tipi di desideri i desideri secondo natura quelli elementari che debbono essere assecondati per mantenere ecco un livello godibile pacifico rasseranante di vita i desideri naturali ma non necessari naturali ma non necessari non so per esempio mangiare un cibo particolarmente gustoso e poi ci sono i desideri che non sono né naturali né necessari cioè sono contro natura parafusin ovvero quelli di cui sta parlando qui il buddismo cioè l'autocompiacimento la ricerca smodata della ricchezza fine a se stessa quindi non finalizzata al sostenere la propria vita la propria esistenza il prestigio sociale le comodità che c'è dopo uno standard di vita naturale e umanamente sostenibile dunque se l'avidità può essere rimossa il dolore che permea ogni essere umano scomparirà in una bolla di sapone ignoranza in sascrito avidia che ricorda un pochino il termine invidia vid è la stessa radice che troviamo in latino no? video vedere avidia è quello che non vedi l'incapacità di vedere in un certo senso e l'invidia è il vedere contro ecco il ragionare contro per così dire ecco quindi un vedere male quindi l'ignoranza si manifesta nell'avidità che riempie ottunde la mente dell'uomo essa deriva dal fatto che gli uomini non sono consapevoli della vera ragione che determina la successione dei fenomeni e tutte le cose della vita dall'ignoranza e dall'avidità si generano desideri impuri per cose che sono di fatto non ottenibili ma per le quali gli uomini ressi ciechi si affannano senza posa come mosche intrappolate in un bicchiere a causa di ignoranza e avidità si vedono distinzioni e discriminazioni laddove in realtà non ve ne sono è l'intelletto che vede il mondo in termini duali cioè che separa ciò che di fatto non è separato né separabile oppure è separabile per fini puramente utilitari pratici mentre noi tendiamo a ontologizzare cioè a ipostatizzare concetti come bene separato dal male bello separato dal brutto e così via come se gli aspetti della realtà non fossero tutti interrelati in termini relazionali tra di loro come insegna tra gli altri eraclito nel comportamento umano in sé per sé non vi sono discriminazioni né di giusto né di sbagliato né di buono né di cattivo sono gli uomini a immaginare a giudicare questo come buono quest'altro come cattivo giusto o ingiusto e spesso il giudicare è materia di sogno è per ignoranza che gli esseri umani sempre si croggiano in cattivi pensieri smarriscono il giusto punto di vista e aggrappati al proprio ego illusorio producono cattive azioni per sé e per gli altri quindi un karma negativo un circolo vizioso da cui risulta un attaccamento forzato a una vita di inevitabili delusioni e sofferenze le azioni diventano il campo dell'ego il complesso lavorio di discriminazione dell'intelletto il seme gettato nel solco dell'aratro la mente oscurata dalle tenebre dell'ignoranza i desideri smodati sono come la pioggia che agisce da fertilizzante con cui l'ostinata forza volitiva dell'ego provvede a irrigare il campo qui mette radice la concezione del male da qui la delusione e lo sconforto esistenziale traggono alimento in realtà quindi è la mente la mente di ciascun uomo di ciascuno di noi a causare delusioni su delusioni con il loro inevitabile bagaglio di sconforto lamento pena e agonia l'intero mondo della delusione non è altro che un'ombra generata dalla mente ecco perché bisogna pulire la mente retta visione retta concentrazione retta pratica questo lo dice l'ottubbice sentiero è appunto come dire la sequenza terapeutica la modalità terapeutica per purificare la mente quindi per evitare la delusione che deriva appunto dall'attaccamento trjna la seconda nobile verità se vi ricordate bisogna rimuovere appunto questo attaccamento e d'altro canto è pur sempre da questa stessa mente che si manifesta in mondo dell'illuminazione se la mente è purificata la mente è in ultima istanza pura la mente cosiddetta mente buddha cioè sul fondo della mente c'è la purezza la mente è di per sé atarassica bisogna eliminare il di più e qui abbiamo lo stesso principio che ritroviamo anche nella visione greca in quella epicurea in particolare infatti lì si parla di atarassia cioè di assenza alfa privativa di taratto che in greco significa turbamento disturbo assenza di turbamento cioè la vera essenza della mente è pace è serenità come la mente buddha in un certo senso e si ritorna si ripristina tale mente quando si rimuovono appunto i desideri illusori quindi si tratta di pulire lo specchio della mente per usare una metafora qui tratta dall'ennea di diplotino pulire la mente come si pulirebbe uno specchio dalle incrostazioni il mondo dell'illusione della delusione si basa su tre errati modi di considerare la realtà se si rimane emozionalmente legati a questi modi di pensare allora tutte le cose del mondo esistono ma solo per essere negate per prima viene la tesi di chi dice che tutta l'umana vicenda è prodotta esclusivamente dal destino o dalla fatalità così detto fatalismo in secondo luogo c'è chi sostiene con fermezza che ogni cosa è creata da Dio e controllata dal suo volere un Dio persona un Dio trascendente infine altri ritengono che ogni fenomeno accada a caso senza che vi sia alcuna causa o condizione a determinarlo il pure semplice caso la tuiche ecco per così dire se tutto fosse stato deciso una volta sola dal destino se le azioni le buone come le cattive fossero predeterminate a ciascuno da sempre fosse stata assegnata la sua parte di prosperità o di disgrazia in tal caso nulla esisterebbe che non fosse stato preordinato allora tutti i progetti e le buone intenzioni coltivate dagli uomini in funzione dello sviluppo e del progresso sarebbero null'altro che vanità di vanità e il genere umano rimarrebbe senza alcuna speranza quindi se accettiamo il fatalismo se sposiamo la visione fatalistica eliminiamo il principio stesso dell'etica cioè non abbiamo più voce in capitolo se non abbiamo voce in capitolo non ha nemmeno senso preoccuparsi di che cosa dovremmo fare per rimuovere la sofferenza alla stessa inevitabile conclusione si giunge percorrendo sino in fondo le altre due strade giacché se ogni cosa in ultima istanza fosse nelle mani di un dio inconoscibile o del cieco caso quale speranza potrebbe esserci per gli uomini al di là di una rassegnata sottomissione non c'è da meravigliarsi che la gente prestando fede a queste concezioni del mondo finisca col perdere la speranza e col traspurare i buoni propositi di agire con saggezza ed evitare il male infatti questi tre modi di concepire la realtà sono ugualmente errati ogni fenomeno è soltanto una successione di apparenze che derivano dall'accumulo di determinate cause e condizioni quindi è esattamente su queste che possiamo e dobbiamo lavorare quindi il karma sarà tanto più positivo quanto più saremo consapevoli di questo e quanto più provvederemo in base a questa consapevolezza a creare un karma buono positivo cioè buone cause che produrranno buoni effetti quindi l'etica è possibile il cammino è possibile e questa è la buona novella del quadrifarmaco di Epicuro così come delle quattro nobili verità del Buddha possiamo fare qualche cosa possiamo intervenire uno evidentemente lo può anche pensare in maniera diversa ma il mio compito al momento è quello di esporvi la visione buddista e con questo vi lascio e vi rimando alla prossima lezione un caro saluto a tutti i miei ascoltatori e ai miei studenti un caro saluto 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 un caro saluto